La Nissa annuncia il tesseramento del centrocampista italo-argentino Nicolas Di Biase, 33 anni, ex casarano. Un giocatore d'esperienza fortemente voluto dalla dirigenza biancoscudata, Di Biase, arrivato ieri sera a Caltanissetta, è già a disposizione dell'allenatore Alessandro Settineri e potrà partecipare all'allenamento congiunto con il Geraci. L'appuntamento è previsto per le ore 17 di domani allo stadio di Petralia Soprana, dove la squadra sta svolgendo la preparazione precampionato. Si prevede anche la presenza di tifosi biancoscudati, desiderosi di vedere all'opera i nuovi arrivati nel primo test della stagione. Non si conoscono ancora i primi dati sulla campagna abbonamenti avviata dalla società, che spera in una risposta massiccia da parte della tifoseria. Un indicatore importante per valutare il reale grado di interesse della città su un progetto ambizioso che punta a riportare la Nissa in categorie più consone al blasone e alle tradizioni calcistiche cittadine.